I carabinieri lo fermarono lo scorso febbraio a bordo della sua auto, trovarono alcune dosi di marijuana nel corso della perquisizione in casa, però ne venne sequestrata circa un chilo. Al trentenne Daniele Biundo furono revocati i domiciliari che gli erano stati imposti subito dopo il fermo e venne sottoposto all'obbligo di firma. Nelle scorse settimane è stato emesso il decreto di giudizio immediato. Secondo i PM della Procura ci sarebbero tutti gli elementi per arrivare al riconoscimento della sua responsabilità. Per magistrati e carabinieri l'esospetto è che avesse avviato un'attività di spaccio, vennero trovati e sequestrati anche un bilancino del denaro e sostanze per la coltivazione di canapa. La difesa, sostenuta dall'avvocato Anna Comandatore, già nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha messo in dubbio alcune conclusioni degli inquirenti, a cominciare dall'effettivo quantitativo di marijuana sequestrato. Ora potrebbe essere valutata però la possibilità di accedere ad un rito alternativo senza arrivare al dibattimento. Gli accertamenti vennero subito sviluppati anche attraverso la perquisizione nell'abitazione delle trentenne, dato il sospetto che la droga che aveva a disposizione potesse essere conservata anche nell'abitazione.